Siamo nel cortile del complesso monumentale di Santa Chiara. Santa Chiara è un po' il cuoce via perché guarda le Cesane, un mito oggi alimentato da pascoli, volponi, piersanti. Negli anni Ottanta l'abbiamo vincolato ed è un vincolo che andrà a favore delle generazioni future. Si specchia Santa Chiara, si specchia la città. Qui abbiamo sotto il bastione di Santa Chiara, oggetti di studi da parte di Pasquale Rotondi, così come la parte che riguarda sud del monumento e quindi abbiamo anche a fianco del monumento una chiesa dove è stato dipinto il quadro di Santa Caterina d'Alessandria. Fu il professor Fontana a darci l'idea e allora fu costituita come sempre, sono abituato nel mio lavoro, una squadra di recuperare il quadro che era di proprietà di Imelde Marcos, la moglie del dittatore. Poi andò negli Stati Uniti, ci fu una vicenda grande con Firenze che ne rivendicava, ma una volta tanto hanno vinto i poveri, in quel caso i poveri erano gli urbinati e non certamente i fiorentini. Quella storia non è andata dimenticata perché il Cavaliere Bertossini ha finanziato gli atti di un volume che oggi è introvabile ma che racconta le vicende che ho detto. Insieme a questa scelta oggi abbiamo il restauro del monumento che è oggetto del nostro incontro. Il restauro del monumento è stato fatto da tante persone, ci hanno lavorato oltre 100 persone, dal ministro Mussi al ministro Gelmini, al sindaco Corbucci, al dottor Felici. Insieme con queste ci sono anche altre persone, ad esempio alla fine dell'anno presenteremo un volume, in primi giorni del 2013, curato dalla dottoressa Vastano della sopraintendenza marchigiana Urbinati e avrà un bellissimo titolo, I segreti e i misteri di Santa Chiara. Questo volume uscirà e farà, secondo me, rumore quando uscirà perché un mecenati, il Cavaliere del Lavoro Moretti, ne ha finanziato presso la casa elettrice Argalia di Urbino. Ma ritornando, e vado a concludere, alla legge speciale, questa comprende anche Sasso Corvare e Carpegna. Lo voglio ricordare in occasione del primio Rotondi perché spesso ci si dimentica che facciamo questa legge con un occhio non solo in città d'Urbino ma tutto quanto il territorio ed è una legge che secondo me può riguardare anche il futuro per tante altre iniziative. Tutte le cose che vi ho detto, e concludo, le Cesane, Santa Caterina d'Alessandria, la legge speciale, il recupero di Santa Chiara, è stato fatto perché le sopraintendenze competenti hanno sempre affiancato questo lavoro.